Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, quest'oggi parliamo di Thai Airways, compagnia aerea thailandese che in questi giorni sta facendo comunque trapelare informazioni importanti per quanto riguarda l'alpresa a pieno regime del servizio in particolare con determinati paesi appunto che hanno turisti che vogliono ricarsi in Thailandia, ovviamente andremo adesso a leggere tutte le novità ovviamente le commentiamo insieme direi come sempre dopo la sigla prima di cominciare il video come sempre se ancora non l'hai fatto ti chiedo di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube mi raccomando questo è molto molto importante, questo intanto è il sito di Thai Airways andiamo a leggere quelle che sono le novità di giornata e le andiamo ad apprendere la parte business di Bangkok Post che riporta insomma Thai Airways pronta a ripartire e volare verso paesi con un alto tasso di vaccinazione ovviamente in questa lista di paesi sicuramente c'è l'Italia adesso vediamo anche quello che è il criterio che identifica poi il paese con un alto tasso di vaccinazione e quindi Thai Airways ha annunciato che comincerà a vendere biglietti per volo internazionale con destinazione appunto ovviamente Thailandia da paesi ad alto tasso di vaccinazione a partire dal 1 ottobre ovviamente l'obiettivo della Thai Airways è quello di andare a recuperare turisti da mercati che qui vengono definiti lucrative markets quindi mercati ovviamente con clienti altospendenti in particolare quindi Europa, Gran Bretagna, Francia, Germania vengono citati anche Giappone e Australia che però mi sembra un pochino più indietro appunto a vista della vaccinazione ma se vengono citati evidentemente poi ci sarà un motivo il criterio è vaccinazione attorno al 70% qui non viene specificato poi prima seconda dose però insomma sicuramente poi Thai Airways evidentemente pubblicherà quella che è la lista nel momento in quale poi questa cosa andrà live oggi è il 29 settembre quindi insomma mancano veramente pochi giorni all'apertura di questa vendita di biglietti altro mercato che la Thai Airways mette nel nirino ovviamente è la Cina un mercato enorme sappiamo quanto insomma la Cina poi è interessata a viaggiare anche in Thailandia lo sappiamo perché insomma io ad esempio sono stato in Thailandia anche diverse volte a gennaio a cavallo del Chinese New Year che a fine gennaio sappiamo insomma quanto i cinesi amano a viaggiare in quel periodo la Thailandia sicuramente anche per vicinanza è una meta assolutamente importante per loro ovviamente per quanto riguarda Thai Airways fatemi anche dire che ci sono comunque dei rumors che parlano di un rientro operativo in Italia verso metà novembre news non ancora confermata però è anche vero che questa notizia di Thai Airways va in quella direzione sicuramente vedremo poi effettivamente quando da Roma e Fumicino o da Malpensa partiranno i premier bus direzione Bangkok ovviamente vi terrò aggiornati sul canale una cosa molto importante per quanto riguarda i voli per la Thailandia qualche settimana fa, anzi qualche mese fa feci un video che si chiama miglior volo per la Thailandia e mette a confronto diverse compagnie aeree con la quale io personalmente ho viaggiato ed è un video che può essere ti utile se stai per pensare di prenotare un volo per la Thailandia te lo lascio qui in alto mi raccomando guardalo, commentalo e lasciali anche un like e cerca di prendere insomma notizie che possono essere stati utili considerando ovviamente politiche di prezzi, scali, orari e quant'altro per quanto riguarda sempre Thai Airways facciamo un discorso importante Thai Airways nelle scorse settimane è stata protagonista di una sorta di rivisitazione del debito importante che grava quindi sulla compagnia ovviamente le compagnie di cosa possono fare in questo caso sono andati a tagliare quello che sono gli impiegati quindi la forza lavoro e inoltre sono andati ad alleggerire quella che è la flotta perché sappiamo che per le compagnie aeree è un costo enorme quando non possono volare quello del mantenimento degli aerei e quindi insomma c'è stata una razionalizzazione aerei più efficienti insomma adesso senza entrare nel dettaglio però sappiamo che Thai Airways è in una fase economica importante ha bisogno di tornare a volare quindi ovviamente siccome in Thailandia c'è un grande parlare di riduzione di quarantene e di tornare ad avere quel numero di turisti necessario insomma per avere quel brecchime se vogliamo su aspetto turistico lo andiamo a riportare ovviamente anche sul canale qui si parla appunto degli Airbus A380 dati restituiti insomma da dove erano stati presi però ripeto quello è importante capire che Thai Airways tornerà a essere operativa sappiamo che nel 2019 la Thailandia ha fatto 39 milioni di turisti record massimo che raggiunse quell'anno vediamo questo 2022 che ormai arriva quale sarà il numero di turisti che effettivamente arriverà e Thai Airways sicuramente può essere un supporto importante perché effettivamente questa è una sensazione che ho avuto anche dal canale da diversi commenti molte persone che viaggiano verso la Thai prediligono comunque vogliono andare se e solo se c'è un volo diretto perché non vogliono magari affrontare lo scalo comunque anche perché comunque il viaggio si allunga e quindi il fatto di avere Thai Airways operativa è sicuramente molto importante vi aggiorno anche con quella che è la classifica delle compagnie giornata 2021 questo è un dato oggettivo quindi esula da quelle che sono le considerazioni personali Qatar Airways anche nel 2021 si conferma compagnia migliore al mondo e amministrazione al quarto posto andiamo per le principali Thai Airways si piazza al 23esimo posto segnalo Bangkok Airways perché chi va in Thailandia potrebbe provarla è un'ottima compagnia io personalmente l'ho provata ve la consiglio soprattutto per i voli interni ma che può essere un Bangkok Samui o anche un Bangkok Chiang Mai quindi se avete opportunità tra l'altro è una compagnia che anche in economy offre la possibilità di entrare nella lounge quindi poter insomma sedervi e mangiare qualcosa avere qualcosa prima del volo ovviamente incluso nel prezzo ovviamente questo discorso sulle compagnie aerei in particolare di Bangkok Airways quindi compagnie locale lo faccio anche perché da qualche giorno in Thailandia sono tornati a essere disponibili i domestic flights quindi i voli interni quindi evidentemente per chi è lì o comunque chi sarà poi appunto in Thailandia nelle prossime settimane la possibilità di muoversi con un volo interno è assolutamente una cosa concreta quindi evidentemente provare comunque avere una dritta su quella che può essere una compagnia valida come Bangkok Airways mi sento quindi di confermare appunto sulla base appunto di quello che vi dicevo prima estremamente comoda estremamente confortevole e tra l'altro parte da Suvarnabung quindi dall'aeroporto principale non vi obbliga poi andare al Don Mung Airport che è l'aeroporto un po' secondario delle compagnie appunto low cost per le varie destinazioni poi che ci sono in Thailandia quindi Thai Airways torna operativa comincia a rivendere i biglietti questo è importante ragazzi fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate ovviamente di questa notizia che riguarda Thai Airways e se effettivamente poi voi pensate appunto eventualmente di tornare con un volo Thai Airways come sempre scrivetemelo qui sotto nei commenti così poi andiamo avanti a commentare nei prossimi giorni la notizia mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando anche sui link per appunto iscrivervi per vedere poi i prossimi video prossime live e anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo YouTube direi che quindi per questo aggiornamento su Thai Airways è tutto e come sempre quindi ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video per quanto riguarda la Thailandia e quindi vi saluto e alla prossima ciao e grazie grazie a tutti grazie a tutti